Sono morti insieme, in solitudine, due anziani coniugi di Tricase, trovati senza vita dai vigili del fuoco, allertati da un amico che non li sentiva da giorni, e anche dai vicini che avvertivano dei cattivi odori provenire dall'appartamento. Non avevano figli, la donna Maria Ventola, di 72 anni, era allettata da tempo per una grave malattia, ad accudirla il marito Luigi Provenzano, di 74 anni. Probabilmente l'uomo è deceduto per un malore, la donna che riceveva gli alimenti grazie al marito. E' morta poco dopo di Inedia. La coppia abitava al primo piano di un appartamento di via Fratelli Allatini, nel centro di Tricase. I vigili del fuoco del locale di staccamento vi sono entrati con una scala mobile, raggiungendo la veranda di una delle stanze dell'abitazione. Una volta dentro, la macabra scoperta, uno accanto all'altro, nel loro letto nunziale. Oltre ai caschi rossi, sono giunti i carabinieri della locale compagnia, i sanitari del 118, i vigili urbani che hanno regolarizzato il traffico. Le salme sono state trasferite presso la camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce a disposizione del Pubblico Ministero.